Cavolfiore, aglio, olive, olio, sale. Fai una precottura del cavolfiore utilizzando il metodo del contenitore a chiusura ermetica, lo trovi qua. Ti consiglio di fare la precottura la sera così la mattina ti ritroverai il cavolfiore già precotto pronto per la ricetta. . . . . . A presto. A presto. mantieni la fiamma bassa, ogni tanto rigira se è necessario aggiungere un goccino d'acqua o un goccino di vino bianco aggiungi un po di sale, non molto se hai già utilizzato il sale nella peccatura del cavofiore ottimo contorno per menù a base di carne ho semplicemente un pezzo di pecorino e il pasto è servito ciao a presto